Si procederà adesso alla cerimonia di consegna del basco del brevetto ai neo-paracadutisti. Oggi è entrata a far parte di una gloriosa schiera, quella dei paracadutisti, che si è forgiata nel deserto di Enalamain nel 1942, diventando leggella. Da oggi potrete indossare il basco maranto e le ali da paracadutista, due simboli che rappresentano visivamente l'ardimento, la professionalità e l'appartenenza a una squadra vincente. Motivazione, coraggio, spregiudicatezza, onestà, rettitudine e spirito di corpo sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono i paracadutisti e che costantemente nel corso della vostra carriera dovrete dimostrare di possedere per proseguire al meglio il vostro percorso della polvole. Siate fieri del risultato raggiunto e nel futuro affrontate tutte le sfide che vi si presenteranno con lo stesso spirito con cui avete affrontato la forza dell'aereo. A testa alta, a schiera dritta e con il massimo impegno, ricordate sempre che noi siamo la polvole! Atona! Patra! Patra! Grazie a tutti.